Grande attesa a Cesarò per l'inizio della ventitresima edizione della Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi. Appuntamento imperdibile che si terrà il 19, 20 e 26, 27 ottobre. Voluto fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Catia Ceraldi per ravvalorizzare il territorio, non soltanto relativamente ai due prodotti tipici, ma anche sul piano turistico, aprendo le porte dei siti culturali, organizzando mostre e spettacoli per grandi e piccoli, tra cui l'atteso concerto dei Mattia Bazarra del 26 ottobre, come evento di punta di una chermesse in cui sono stati curati anche i minimi particolari. Una vasta area espositiva con stand che popoleranno la villa comunale e le principali vie cittadine, daranno la possibilità da una parte ai produttori locali di vendere le proprie produzioni e dall'altra offriranno un incentivo ai turisti che accorreranno sul posto. Si attende un gran pienone anche grazie all'organizzazione di bus che partiranno da Catania e da Siracusa per condurre sui nebrodi appassionati di queste manifestazioni, sempre più preziose per i comuni siciliani che intendono spingere l'economia del territorio. Tre aree parcheggio saranno allestite per permettere a tutti i visitatori di trovare facilmente posto per poi lasciarsi andare ad una lunga passeggiata a piedi per le strade di Cesarò. Il suino nero e i funghi porcini rappresentano eccellenze ormai apprezzate, ben oltre i confini dell'area dei nebrodi. Il 19 e il 20, il 26 e il 27 di ottobre ritorna questo grande evento, sagra del suino nero e del fungo porcino dei nebrodi. Un evento che è attesissimo perché, capite, è un evento attraverso il quale si valorizza il territorio, una grande opportunità non solo dal punto di vista economico ma anche appunto per far conoscere le meraviglie dei nebrodi a tutti i visitatori. E' anche, dico sempre, un momento attraverso il quale i cesaresi esprimono con le loro attività, facendosi i loro stessi protagonisti di questo meraviglioso evento, diventano parte attiva, protagonisti e esprimono la loro appartenenza al territorio. Quest'anno il programma è veramente ricco di eventi, grazie anche a degli importanti finanziamenti che abbiamo ottenuto dai vari assessorati regionali, in particolare l'assessorato agricoltura, sport, turismo e spettacolo e l'ARS. Tutto questo appunto ci ha consentito di organizzare momenti importanti, attività ricreative, vedi, gonfiabili per i nostri piccoli visitatori. Un altro momento importante sarà la mostra micologica che si terrà a Palazzo Zito, sito che invito a visitare, un palazzo storico veramente molto bello. I luoghi da visitare, oltre al Palazzo Zito di cui ha parlato il sindaco, abbiamo il Cristo Signore della Montagna, le chiese, le varie chiese, la chiesa del Rosario, la chiesa Madre, la chiesa di San Calogero, che è il nostro santo patrono, e i nostri meravigliosi laghi. Durante la giornata ci saranno degli spettacoli itineranti lungo le vie del corso, dove appunto si svolgerà la Sagra, e poi il giorno 19, il sabato 19 sera, avremo lo spettacolo di Salvo la Rosa con il comico Maglio Dovì, mentre il 26 ottobre, quindi il sabato successivo, avremo il piacere di ospitare i Mattia Bazzar. Chiudiamo l'intervista con un invito a partecipare ad un momento che sarà il via, con il taglio del nastro, che si preannuncia partecipatissimo. Sì, il 19 ottobre, sabato alle ore 12. Mi raccomando, non mancate, veniteci a trovare numerosi.